Incredibile ciò che è successo al Maradona, l'Empoli sbanca il Maradona esattamente come due anni fa e vince questa volta 1-0 con un gol bellissimo di Kovalenko nel finale, un tiro a giro che va a baciare il palo da posizione defilata ed entra in gol Veramente una partita incredibile dove il Napoli ci ha provato ma fondamentalmente era una partita che sembrava indirizzarsi verso lo 0-0 era già un risultato deludente per un Napoli che cercava di tenere il ritmo di Inter e Juve prevalentemente per cercare di arrivare a un isperato ormai scudetto il gol nel finale dell'Empoli gela il Maradona, Napoli che esce tra i fischi, altro passo falso dopo quello con l'Union Berlino questo veramente pesante per Rudi Garcia e ora ci sarà da capire nella sosta cosa sarà del suo futuro perché questa è una sconfitta contro un Empoli che finora ha vinto e segnato pochissimo che può essere veramente pesante